Luiso allora si può dire un risultato che sta stretto al Sulmona, non si poteva pretendere di più dalla sua squadra, avete creato le cose migliori soprattutto nel secondo tempo? Sì, come hai detto tu, meritavamo sicuramente di vincerla perché abbiamo creato tanto, ho fatto quel miracolo lì su Squawk alla fine, pure sull'ultimo tiro dell'altro ragazzo, però sono contento, sono contento perché non mi aspettavo una prestazione del genere, non mi aspettavo la tenuta fisica perché questa è gente che ferma da un mese e mezzo, due mesi, hanno corso fino al 91 S che ha dato un minuto di recupero, mi ha fatto bene, sono contento però penso che avete visto tutti quanti, ho giocatori contati. Quali gli accorgimenti tattici, dove deve migliorare questo Sulmona, il centrocampo forse? Come avete visto, ci serve una punta davanti che ci faccia golla, Gianluca Simioli si è sacrificata ma non è un centravanti perché se non è una seconda punta, è un esterno, abbiamo bisogno di ricambi al centrocampo, anche se hanno fatto bene sia Sorrentino, Finghe Caretto, qualche cosina ci vuole, ci vogliono un po' di giovani, 95-94 che facciamo respirare gli altri, oggi avevo tutti i ragazzetti tra l'Unionores, 96, non è che avevo ricambi, altrimenti ero un pazzo a non sostituire un paio di ragazzi che erano stanchi, però abbiamo giocato fino alla fine, ce la siamo combattuta e devo dire grazie ai ragazzi, perché si sono impegnati fino alla fine, penso che tutti quanti ci vediamo, no, pure voi dalla tribuna forse vedete meglio di me, la squadra che due a vincere eravamo noi, però io avevo pure paura in un carcio d'angolo o qualche rimpallo di perderla pure, perché alla fine magari la puoi pure perdere una partita del genere, però abbiamo giocato fino alla fine, fino all'ultimo minuto, un grazie ai tifosi perché ci hanno incoraggiato fino alla fine, hanno chiamato la squadra sotto la curva, anche se è una squadra nuova, questo sicuramente fa bene sperare per il futuro, perché la città è unita, la squadra è unita, i giornalisti sembra che pure voi ci tenete a questa causa, speriamo tutti quanti insieme di tirarci fuori, la classifica è importante, è buona, però non è che giochiamo sempre con l'Isernia o giochiamo sempre con l'Iboiano. Un punto importante contro una diretta concorrente per la salvezza, purtroppo dobbiamo dire così. Bravissimo, ma poi non è che parlavano tutti di un Isernia allo sbando, un Isernia scarso, questa è una buona squadra, squadra buona, allenatore nuovo, giocatore importante, ha 4-5 elementi importanti di categoria, il difensore, il 10, il 9, non è che abbiamo giocato contro a nessuno, però ho detto, io sono contento sull'aspetto fisico, perché pensavo molto ma molto peggio, adesso parlando con il preparatore mi ha detto, ma nemmeno io me l'aspettavo, lavorando 4 giorni, poi su un campo dove ci alleniamo noi, che è tutto fangoso, è ancora più duro, però ho detto, io sono fiducioso e sono contento, però sapete tutti quanti che abbiamo bisogno ancora di giocatori. Arriverà qualcun altro in settimana, un attaccante ad esempio? Insieme al direttore ci muoveremo per cercare di trovare qualcosa, insieme alla società, ho parlato adesso con il presidente, ho parlato stamattina con il direttore, ho chiesto quello che mi serve, si muoveranno loro e poi dobbiamo pescare nei settori giovanili, perché i giocatori 95-94 stanno nei settori giovanili, stiamo valutando, stiamo vedendo, ma è una squadra incompleta, anche se oggi io gli faccio un grosso applauso ai miei ragazzi, perché sono usciti veramente a testa alta, dando tutto, e questo, l'ho detto, per un allenatore è molto molto importante, lo 0-0 non piace a nessuno, però calcola se finiva 0-1, che poteva finire pure 0-1, era una beffa tremenda, invece siamo partiti col piede giusto, un punto, diretta concorrente, come hai detto tu, perché alla fine sì, adesso noi, al di là della classifica, hanno fatto i 28 punti gli altri che giocavano prima, ma noi adesso partiamo da 0, da 0 significa 0 come squadra, 0 fisicamente, 0, adesso io calcolo che abbiamo fatto la prima partita del giorno di ritorno, ho fatto un punto, vediamo quando ne facciamo in 18, che abbiamo una partita da recuperare, adesso mancano ancora 17 partite per noi, perciò io gli ho detto un grazie ai ragazzi, perché veramente hanno dato l'anima e hanno fatto vedere che ci tengono a questa causa, voi sapete che hanno firmato tutti, ieri mattina, ieri mattina hanno firmato tutti i contrattini, sapete in che condizioni, in che modo, però io ci credo, sono fiducioso e niente, dobbiamo stare tutti quanti uniti, dal sindaco al magazziniere, se ce la facciamo abbiamo fatto un miracolo.